È una squadra che sicuramente sarà un avversario molto ostico, poi da loro sicuramente non è facile. È una squadra discontinua, è una squadra che va aggredita, è una squadra che se comincia ad esaltarsi diventa pericolosissima e lo ha dimostrato finora in campionato. Quindi rispetterà un'altra battaglia. Grazie mille Max.